Ben ritrovati ad una nuova edizione delle nostre breaking news. In apertura parliamo del consueto bollettino dedicato ai casi da covid, una situazione stazionaria, quella registrata nella retino con i contagi che nella giornata di lunedì 6 settembre ammontano a 34 casi, 3 più di ieri. Sono complessivamente 122 invece i positivi riscontrati nell'intera ASL, 13 i comuni della provincia dove si riscontrano i contagi, 7 il numero massimo raggiunto dal capoluogo. In ospedale sono 11 ricoverati di cui uno in terapia intensiva. Un dato differente, sicuramente con una connotazione più positiva, è alto il numero dei guariti che sono ben 61. Cambiamo adesso argomento perché giovedì 9 settembre torna il consiglio comunale in presenza nell'aula di Palazzo Cavallo. Non succedeva dalla fine di gennaio del 2020 quando il covid, il coronavirus, sembrava essere una questione anche geograficamente lontana. Ed infine andiamo in Valdichiana perché si è registrato un grande successo per l'edizione di Street Workout organizzata dalla FIDAPA Valdichiana, svoltasi a Castiglion Fiorentino, una camminata tutta particolare, una sorta di fitness musicale al quale ha preso parte anche l'amministrazione comunale con il sindaco Mario Agnelli. Questa è al momento la nostra ultima notizia, per rimanere informati continuate a seguire Teletruria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.